Dal libro di Mormon, un'altra testimonianza di Gesù Cristo, capitolo 6 di Due Nefi. Parole di Giacobbe, fratello di Nefi, che egli disse al popolo di Nefi. Ecco, miei diretti fratelli, io, Giacobbe, essendo stato chiamato da Dio e ordinato secondo il suo santo ordine, ed essendo stato consacrato da mio fratello Nefi, che voi considerate come un re o un protettore e da quale dipendete per la vostra sicurezza, ecco, voi sapete che io ho detto moltissime cose. Non di meno vi parlo di nuovo, poiché desidero il benessere delle vostre anime. Sì, la mia ansia è grande per voi e voi stessi sapete che lo è sempre stata. Poiché vi ho esortati in tutta diligenza e vi ho insegnato le parole di mio padre e vi ho parlato riguardo a tutte le cose che sono scritte fino alla creazione del mondo. E ora ecco, io vorrei parlarvi riguardo a cose che sono e a cose che devono venire. Pertanto vi leggerò le parole di Isaia e sono le parole che mio fratello ha desiderato che io vi dicessi. E io vi parlo per il vostro bene affinché possiate imparare e glorificare il nome del vostro Dio. Ed ora le parole che leggerò sono quelle che Isaia disse riguardo a tutto il casato di Israele. Pertanto esse possono essere applicate a voi poiché siete del casato di Israele. E vi sono molte cose che sono state dette da Isaia che possono essere applicate a voi perché siete del casato di Israele. E ora queste sono le parole così, dice il Signore Dio. Ecco, io alzerò la mia mano verso i gentili, innalzerò il mio standardo verso il popolo ed essi ti riporteranno i tuoi figli in braccio e le tue figlie saranno portate sulle loro spalle e i re saranno i tuoi balie e le loro regine, le tue balie. Essi si prosteranno dinanzi a te con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi e tu saprai che io sono il Signore poiché coloro che mi attendono non proverranno vergogna. Ed ora io, Giacobbe, vorrei dirvi qualcosa riguardo a queste parole poiché ecco il Signore mi ha mostrato che coloro che erano a Gerusalemme, donde venimmo, sono stati uccisi e tratti schiavi. Non di meno, il Signore mi ha mostrato che essi torneranno di nuovo e mi ha pure mostrato che il Signore Dio, il Santo Israele, si manifesterà loro nella carne e dopo che si sarà manifestato, essi lo flaggeleranno e lo crocipigeranno, secondo le parole che l'Angelo mi disse e dopo che essi avranno indurito il loro cuore e irrigito il loro collo contro il Santo Israele ecco, i giudizi del Santo Israele cadranno su di loro e verrà il giorno in cui staranno castigati ed afflitti. Pertanto, dopo essere stati cacciati di qua e di là, poiché, così disse l'Angelo molti saranno afflitti nella carne e non sarà permesso che periscano grazie alle preghiere dei fedeli essi saranno dispersi e castigati e udiati non di meno, il Signore sarà misericordioso verso di loro cosicché, quando perverranno alla conoscenza del loro Redentore essi saranno di nuovo radunati nelle terre della loro eredità E benedetti sono i gentili, coloro di cui ha scritto il profeta poiché, ecco, si accadrà che essi si pentiranno e non combatteranno contro Sion e non si uniranno a quella chiesa grande e abominevole essi saranno salvati poiché il Signore Dio adempirà le alleanze che ha fatto con i suoi figlioli e per questo motivo il profeta ha scritto queste cose Pertanto, coloro che combattono contro Sion e il popolo dell'alleanza del Signore leccheranno la polvere dei loro piedi e il popolo del Signore non proverà vergogna poiché il popolo del Signore sono coloro che lo attendono poiché essi attendono ancora la venuta del Messia Ed ecco, secondo le parole del profeta il Messia si disporrà di nuovo per la seconda volta e a ristabilirli pertanto si manifesterà loro in potere e grande gloria fino a distruggere i loro nemici quando verrà il giorno in cui essi crederanno in Lui ed Egli non distruggerà nessuno che crede in Lui E coloro che non crederanno in Lui saranno distrutti sia con il fuoco che con la tempesta con i terremoti con gli spargimenti di sangue con la spessidenza e con la carestia ed essi sapranno che il Signore è Dio il Santo di Israele poiché si strapperà la preda al potente o i legittimi prigionieri saranno essi liberati ma così dice il Signore anche i prigionieri del potente saranno portati via e la preda del tiranno sarà liberata poiché il potente Dio libererà il suo popolo dell'alleanza poiché, così dice il Signore io lotterò contro coloro che lottano contro di te e darò da mangiare a coloro che ti opprimono la loro propria carne e si inebriano del loro proprio sangue come con il vin dolce e ogni carne saprà che io il Signore sono il tuo Salvatore e il tuo Redentore il potente di Giacobbe Capitolo 7 Sì, poiché così dice il Signore ti ho ripudiata e ti ho reggettata per sempre poiché così dice il Signore Dov'è la lettera di divorcio di tua madre? In favore di chi ti ho ripudiata? O a quale dei miei creditori ti ho venduta? Sì, a chi ti ho venduta? Ecco, voi stessi vi siete venduti per le vostre iniquità e per le vostre trasgressioni vostra madre è stata ripudiata Pertanto, quando vengi non c'era nessuno quando chiamai sì, non c'era nessuno a rispondere Oh, casato Israele è la mia mano del tutto accorciata da non poter dimere o non ho io alcun potere di liberare? Ecco, al mio rimprovero prosciugo il mare dei loro fiumi faccio un deserto e rendo fetido il loro pesce perché le acque sono proscigate ed essi muoiono a causa della sete Io rivesto i cieli di tenebre e rendo il loro manto un cilicio Il Signore Dio mi ha dato la lingua dei dotti affinché sapessi come parlarti al momento opportuno ho casato Israele Quando siete esausti egli beia mattino dopo mattino egli schiude le mie orecchie perché io oda come il dotto Il Signore Dio ha aperto le mie orecchie e io non sono stato ribelle né ho voltato le spalle ho dato la schiena al percorritore e le guance a coloro che strappavano la barba non ho nascosto la faccia all'onta e allo sputo poiché il Signore Dio mi aiuterà non sarò dunque confuso ho dunque reso la mia faccia come una pietra e so che non proverò vergogno e il Signore è vicino ed egli mi giustifica chi lotterà con me confrontiamoci chi è il mio avversario che si avvicini a me e io lo colpirò con la forza della mia bocca poiché il Signore Dio mi aiuterà e tutti coloro che mi condanneranno ecco invece inveccheranno tutti come un abito e la tignola li divonerà chi è fra voi che teme il Signore che obbedisce alla voce del suo servo che cammina nelle tenebre e non ha luce ecco voi tutti che accendete il fuoco che vi circondate di scintille camminate alla luce del vostro fuoco nelle scintille che avete acceso questo avrete dalla mia mano voi giacerete nel dolore capitolo 8 datemi ascolto voi che seguite la rettitudine guardate alla roccia ad onde foste tagliati e alla buca della fossa ad onde foste scavati guardate ad Abramo vostro padre e a Sara colei che vi ha partorito poiché io chiamai lui solo e lo benedissi poiché il Signore conforterà Sion conforterà tutti i suoi luoghi desolati ed egli renderà il suo deserto simile ad Eden e le sue lende lande simile al giardino del Signore in essa si troveranno gioia e letizia rendimento di grazie e voci di melodia dammi ascolto mio popolo e porgimi orecchio o mia nazione poiché una legge procederà da me e io stabilirò il mio giudizio come luce per il popolo la mia giustizia è vicina la mia salvezza è apparsa e il mio braccio giudicherà il popolo le isole spereranno in me e confideranno nel mio braccio levate levate gli occhi ai cieli e guardate in basso sulla terra poiché i cieli svaniranno come fumo e la terra invecchierà come un abito e coloro che vi abitano similmente morranno ma la mia salvezza durerà per sempre e la mia giustizia non sarà abolita datemi ascolto voi che conoscete la rettitudine popolo nel cui cuore ho scritto la mia legge non temete il rimprovero degli uomini e non abbiate paura dei loro oltraggi perché la tignola li divolerà come un abito e il verme li mangerà come la lana ma la mia rettitudine durerà per sempre e la mia salvezza di generazione in generazione svegliati svegliati rivestiti di forza o braccio del Signore svegliati come nei giorni antichi non sei tu colui che ha tagliato a pezzi rab e ferito il dragone non sei tu colui che ha profligato il mare le acque del grande abisso che ha fatto delle profondità del mare un cammino per farvi passare i riscattati dunque i redenti del Signore torneranno e verranno a Sion cantando gioia e santità eterne saranno sul loro capo ed essi otterranno letizia e gioia dolore e lutto fuggiranno via sono io sì sono io colui che vi consola ecco chi sei tu per aver paura dell'uomo che morrà e del figlio dell'uomo che sarà reso simile all'erba e dimentichi il Signore tuo creatore che ha disteso i cieli e posto le fondamenta della terra e hai ogni giorno continuamente temuto a causa della furia dell'oppressore come se gli fosse pronto a distruggere e dov'è la furia dell'oppressore il primo genito in esilio si affretta per poter essere sciolto e per non morire nella fossa né mancare di pane ma io sono il Signore Dio tuo le cui onde muggirono Signore degli eserciti è il mio nome e io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano affinché io potessi piantare i cieli e porre le fondamenta della terra e dire a Sion ecco tu sei il mio popolo svegliati svegliati alzati o Gerusalemme che hai bevuto dalla mano del Signore la coppa della sua furia tu hai bevuto la feccia premuta della coppa di trepitazione è fra tutti i figli che essa ha partorito non v'è né alcuno per guidarla né fra tutti i figli che ha allevati alcuno che la prenda per mano questi due figli sono venuti a te e saranno addolorati per te la tua desolazione è la tua distruzione la carestia è la spada e con chi ti consolerò i tuoi figli sono venuti meno salvo questi due essi giacciono in capo a ogni strada come un antilope in una rete essi sono pieni della furia del Signore il rimprolo del tuo Dio ora dunque ascolta questo tu afflitta ed ebra e non divino così dice il tuo Signore il Signore e il Dio tuo difende la causa del suo popolo ecco io ti ho tolto di mano la coppa di trepidazione la feccia della coppa del mio furore tu non ne berrai mai più ma la metterò in mano a coloro che ti affliggono che hanno detto all'anima tua prostrati che possiamo passarti sopra e tu hai steso il tuo corpo come un suolo e come una strada ai passanti svegliati svegliati rivestiti della tua forza o Sion indossa le tue belle vesti o Gerusalemme città santa poiché d'ora innanzi non entreranno più in te il circolciso e l'impuro scuoti alla polvere levati siediti o Gerusalemme sciogliti dai legami che hai al collo o schiava figlia di Sion capitolo 9 ed ora miei diritti fratelli ho letto queste cose perché possiate conoscere ciò che riguarda le alleanze del Signore che egli ha stipulato con tutto il casato Israele che egli ha detto ai giudei per bocca dei suoi santi profeti fin dal principio di generazione in generazione fino a che venga il tempo in cui saranno restituiti alla vera chiesa e al greggio di Dio quando saranno radunati in patria nelle terre della loro eredità e saranno stabiliti in tutte le loro terre di promessa ecco miei diritti fratelli io vi dico queste cose perché possiate gioire e sollevare il capo per sempre a motivo delle benedizioni che il Signore Dio riverserà sui vostri figli perché so che avete cercato assai molti di voi di conoscere le cose a venire so pertanto che voi sapete che la nostra carne deve corrompersi e morire non di meno nel nostro corpo noi vedremo Dio sì io so che voi sapete che Egli ti mostrerà nel corpo a quelli in Gerusalemme d'onde venimo poiché è opportuno che ciò avvenga tra loro perché è necessario che il grande creatore acconsenta di assoggettarsi all'uomo nella carne e di morire per tutti i uomini affinché tutti i uomini possano divenire a lui soggetti poiché come la morte è venuta a tutti i uomini per adempiere il piano misericordioso del grande creatore è necessario che vi sia un potere di resurrezione e la resurrezione è necessaria che venga all'uomo a causa della caduta e la caduta venne a causa della trasgressione e poiché l'uomo divenne decaduto essi furono rescisi dalla presenza del Signore pertanto è necessario che vi sia un'espiazione infinita e se non fosse un'espiazione infinita questa corruzione non potrebbe rivestirsi di incorruttibilità pertanto il primo giudizio che cadde sull'uomo avrebbe dovuto necessariamente restare per un tempo infinito e se così fosse questa carne avrebbe dovuto giacere per marcire e decomporsi nella madre terra per non risorgere mai più o saggezza di Dio la sua misericordia e la sua grazia poiché ecco se la carne non risuscitasse più il nostro spirito dovrebbe divenire soggetto a quell'angelo che cadde dalla presenza dell'eterno Dio e divenne il diavolo per non risorgere mai più e il nostro spirito avrebbe dovuto divenire come lui e noi divenire diavoli angeli di un diavolo per essere esclusi dalla presenza del nostro Dio e per rimanere con il padre nelle menzogne nell'implicità come lui stesso con quell'essere che ingannò i nostri primi genitori che si trasforma quasi in un angelo di luce e istiga i figli degli uomini verso associazioni segrete di omicidio e ogni sorta di tenebrose opere segrete oh come è grande la bontà del nostro Dio che ci prepara una via per sfuggire alla stretta di quell'orribile mostro sì quel mostro morte e inferno che io chiamo la morte del corpo e anche la morte dello spirito e grazie alla via di liberazione del nostro Dio il santo Israele questa morte di cui ho parlato che è quella temporale restituirà i suoi morti la quale morte è la tomba e questa morte di cui ho parlato che è la morte spirituale restituirà i suoi morti la quale morte spirituale è l'inferno pertanto la morte e l'inferno debbono restituire i loro morti e l'inferno deve restituire i suoi spiriti prigionieri e la tomba deve restituire i suoi corpi prigionieri e il corpo e lo spirito dei uomini saranno ricongiunti l'uno con l'altro e ciò sarà per il potere di risurrezione del santo di Israele oh quanto è grande il piano del nostro Dio poiché d'altro canto il paradiso di Dio dovrà restituire gli spiriti dei giusti e la tomba restituire i corpi dei giusti e lo spirito e il corpo è ricongiunto nuovamente a se stesso e tutti i uomini diventano incorruttibili e immortali e sono anime inventi che hanno una conoscenza perfetta come noi nella carne salvo che la nostra conoscenza sarà allora perfetta pertanto avremo una perfetta conoscenza di tutte le nostre colpe delle nostre impunità e della nostra nudità e i giusti avranno una perfetta conoscenza della loro contentezza e della loro rettitudine essendo rivestiti di purezza sì proprio di una veste di rettitudine e avverrà che quando tutti i uomini saranno passati da questa prima morte alla vita in quanto divenuti immortali dovranno comparire davanti al seggio del giudizio del santo Israele e allora verrà il giudizio e allora dovranno essere giudicati secondo il santo giudizio di Dio e certamente come vive il Signore poiché il Signore Dio l'ha detto ed è tua parola eterna che non può passare che coloro che sono giusti resteranno giusti e coloro che sono immondi resteranno immondi pertanto coloro che sono immondi sono il diavolo e i suoi angeli e se ne andranno nel fuoco perpetuo preparato per loro e il loro tenemento è come un lago di fuoco di zolfo le cui fiamme ascendono per sempre e in eterno e non hanno fine oh grandezza e giustizia del nostro Dio poiché e gli mette ad effetto tutte le sue parole esse sono uscite dalla sua bocca e la sua legge deve essere adempiuta ma ecco i giusti i santi del Santo Israele coloro che hanno creduto nel Santo Israele coloro che hanno sopportato le croci del mondo e che ne hanno disprezzato l'onta essi erediteranno il Regno di Dio che fu preparato per loro fin dalla fondazione del mondo e la loro gioia sarà completa per sempre oh grandezza della misericordia del nostro Dio il Santo Israele poiché egli libera i suoi santi da quell'orribile mostro il diavolo e dalla morte e dall'inferno e da quel lago di fuoco di zolfo che è tormento infinito oh quanto è grande la santità del nostro Dio poiché egli conosce ogni cosa e non vi è nulla che egli non conosca ed egli verrà nel mondo per poter salvare gli uomini tutti se daranno ascolto alla sua voce poiché ecco egli soffre le pene di tutti i uomini sì le pene di ogni creatura vivente siano uomini donne e bambini che appartengono alla famiglia d'Adamo ed egli soffre queste cose affinché la resurrezione possa venire su tutti i uomini affinché tutti possano stare dinanzi a lui nel grande giorno del giudizio ed egli comanda a tutti i uomini di pentirsi e di essere battezzati nel suo nome avendo fede perfetta nel santo di Israele altrimenti non possono essere salvati nel regno di Dio e se non si pentiranno e non crederanno nel suo nome e non saranno battezzati in nome suo e non persevereranno fino alla fine dovranno essere dannati poiché il signore Dio il santo Israele lo ha detto pertanto egli ha dato una legge e dove non è data alcuna legge non c'è punizione e dove non c'è punizione non c'è condanna e dove non c'è condanna la misericordia del santo Israele possono reclamarli a motivo dell'espiazione poiché essi vengono liberati mediante il suo potere poiché l'espiazione soddisfa le esigenze della giustizia per tutti coloro a cui non è stata data la legge affinché siano liberati da quell'orribile mostro la morte e l'inferno e il diavolo e il fuoco il lago di fuoco e di zolfo che è tormento infinito ed essi sono restituiti da quel Dio che dette loro l'alito che è il santo di Israele ma guai a colui al quale la legge è stata data sì che ha tutti i comandamenti di Dio come noi e che li trasgredisce e che spreca i giorni della sua prova perché terribile è il suo stato oh l'astuto piano del maligno oh vanità e fragilità e stoltezza degli uomini quando sono dotti si credono saggi e non danno ascolto ai consigli di Dio poiché li trascurano credendo di conoscere da sé pertanto la loro saggezza è stoltezza e non giova loro e periranno ma è bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio ma guai ai ricchi che sono ricchi in quanto alle cose del mondo poiché per il fatto che sono ricchi essi disprezzano i poveri e perseguitano i miti e il loro cuore è nei loro tesori pertanto il loro tesore è il loro Dio ed ecco anche il loro tesoro peirà insieme a loro e guai ai sordi che non vogliono sentire poiché peiranno guai ai ciechi che non vogliono vedere poiché essi pure peiranno guai agli incirconcisi di cuore poiché la conoscenza delle loro iniquità li colpirà all'ultimo giorno guai al mentitore poiché sarà gettato in inferno guai all'omicida che uccide deliberatamente poiché morrà guai a coloro che commettono prostituzioni poiché saranno gettati in inferno sì guai a coloro che adorano i Dii i idoli poiché il diavolo di tutti i diavoli delizia in loro e infine guai a tutti coloro che muoiono nei loro peccati poiché torneranno a Dio vedranno il suo volto e rimarranno nei loro peccati oh miei diretti fratelli ricordatevi quanto è terribile trasgredire contro quel santo iddio e quanto è pure terribile credere cedere alle seduzioni di quell'essere astuto ricordate seguire le inclinazioni della carne è morte e seguire le inclinazioni dello spirito è vita eterna oh miei diretti fratelli porgete orecchio alle mie parole ricordate la grandezza del santo di Israele non dite che ho detto cose dure contro di voi poiché se lo fate oltraggiate la verità poiché io ho detto le parole del vostro creatore so che le parole di verità sono dure contro ogni impurità ma i giusti non le temono poiché essi amano la verità e non ne sono scorsi oh allora miei diretti fratelli venite al signore il santo ricordate che i suoi sentieri sono giusti ecco la via per l'uomo è stretta ma si stende dritta innanzi a lui e il guardiano alla porta è il santo Israele e non tiene là alcun servitore e non vi è altra via se non attraverso la porta poiché egli non può essere ingannato poiché il signore è Dio e il suo nome e a chiunque bussa egli aprirà e i saggi i dotti e coloro che sono ricchi che sono orgogliosi per il loro sapere la loro saggezza le loro ricchezze sì sono essi quelli che egli disprezza e a meno che non gettino via queste cose e si considerano stolti innanzi a Dio e si abbassino nel profondo dell'umiltà egli non aprirà loro ma le cose del saggio del prudente saranno loro celate per sempre sì quella felicità che è preparata per i santi o miei diletti fratelli ricordate le mie parole ecco io mi tolgo le vesti e le scuoto davanti a voi prego lì Dio della mia salvezza che egli mi iscruti col suo occhio onniveggente pertanto voi saprete nell'ultimo giorno quando tutti i uomini saranno giudicati per le loro opere che il Dio di Israele fu testimone che io scossi dalla mia anima le vostre iniquità e che sto terzo dinanzi a Lui e sono libero dal vostro sangue O miei diletti fratelli distoglietevi dai vostri peccati scuotetevi di dosso le catene di colui che vorrebbe legarvi stretti e venite a quel Dio che è la rocca della vostra salvezza preparate la vostra anima per quel giorno glorioso in cui sarà dispensata la giustizia ai giusti sì il giorno del giudizio affinché non abbiate a ritrarvi con terribile spavento affinché non abbiate a ricordare perfettamente le vostre orribili colpe ed essere costretti ad esclamare santi santi sono i tuoi giudizi o Signore Dio onnipotente ma io conosco la mia colpa trasgredì la tua legge e le mie trasgressioni sono mie e il diavolo mi ha conquistato cosicché io sono preda della sua orribile infelicità ma ecco fratelli miei è opportuno che io vi risvegli dall'orribile realtà di queste cose vi strazierei io l'anima se la vostra mente fosse pura starei chiaro con voi secondo la chiarezza della verità se foste liberati dal peccato ecco se voi foste santi vi parlerei di santità ma siccome non siete santi e voi mi considerate come un insegnante è senz'altro necessario che io vi insegni le conseguenze del peccato ecco la mia anima abborrisce il peccato e il mio cuore si delizia della rettitudine e io lo derò il santo nome nel mio dio venite fratelli miei chiunque abbia sete venite alle acque e chi non ha denaro venga compri e mangi si venite comprate vino e latte senza denaro e senza prezzo pertanto non spendete denaro per ciò che non ha alcun valore né la vostra fatica per ciò che non può soddisfare datemi ascolto diligentemente e ricordate le parole che ho detto e venite al santo israele e fate un banchetto con ciò che non perisce né può essere corrotto e che la vostra anima si delizi nell'abbondanza ecco miei diretti fratelli ricordate le parole del vostro dio pregatelo continuamente di giorno e di notte rendete grazie al suo santo nome che il vostro cuore gioisca e vedete quanto sono grandi le alleanze del signore e quando e quanto è grande la sua condizione la sua condiscendenza verso i figli e gli uomini e a motivo della sua grandezza e della sua grazia e misericordia egli ci ha promesso che la nostra posterità non sarà totalmente distrutta secondo la carne ma che egli la preserverà e nelle generazioni future essa diventerà un ramo giusto per il casato di Israele ed ora fratelli miei vorrei parlarvi ancora ma il resto delle mie parole ve lo dirò domani amen capitolo 10 ed ora io Giacobbe vi parlo di nuovo miei diritti fratelli riguardo a quel ramo giusto di cui ho parlato poiché le promesse che noi abbiamo ottenuto sono promesse accordateci secondo la carne pertanto sebbene mi sia stato mostrato che molti dei nostri figlioli periranno nella carne a causa dell'increduità non di meno il dio sarà misericordioso verso molti e i nostri figlioli saranno ristabiliti affinché possano venire a ciò che darà loro la vera conoscenza del loro redentore pertanto come vi dissi è senz'altro necessario che Cristo poiché la scorsa notte l'angelo mi disse che tale sarà il suo nome venga fra i giudei fra coloro che sono la parte più malvagia del mondo ed essi lo crocifiggeranno poiché così è necessario per il nostro dio e non vè nessun'altra nazione sulla terra che crocifiggerebbe il suo dio poiché se miracoli possenti fossero operati fra le altre nazioni esse si pentirebbero e riconoscerebbero che è il loro dio ma a causa delle frodi sacerdotati e delle iniquità quelli in Gerusalemme induiranno il collo contro di lui affinché sia crocifisso pertanto a causa delle loro iniquità distruzioni carestie pestilenze e spargimenti di sangue cadranno su di loro e quelli che non saranno distrutti verranno dispersi fra tutte le nazioni ma ecco così dice il signore il dio quando verrà il giorno in cui essi crederanno in me che io sono il cristo allora io ho fatto alleanza con i loro padri che essi saranno ristabiliti nella carne sulla terra nelle terre della loro edità e avverrà che essi saranno radunati dalla loro lunga dispersione dalle isole del mare e dalle quattro parti della terra e le nazioni di gentili saranno grandi ai miei occhi dice il signore il dio perché li porteranno alle terre della loro edità si i re dei gentili saranno i loro balie e le loro regine diverranno le loro balie pertanto le promesse del signore ai gentili sono grandi poiché egli l'ha detto e chi può contraddirlo ma ecco questa terra disse Dio sarà la terra della tua eredità e i gentili saranno benedetti nel paese e questa terra sarà una terra di libertà per i gentili e non vi saranno re nel paese che si levranno sui gentili e io fortificherò questa terra contro tutte le altre nazioni e colui che combatte contro Sion per i radici Dio poiché è colui che farà sorgere un re contro di me per i ra poiché io il signore il re del cielo sarò il loro re e io sarò per sempre una luce per quelli che ascoltano le mie parole pertanto per questo motivo affinché possano adempersi le mie alleanze che ho fatto con i figli di uomini che farò con loro mentre essi sono nella carne io devo necessariamente distruggere le tenebre opere segrete e gli omicidi e le abominazioni pertanto colui che combatte contro Sion sia giudeo che gentile sia schiavo che libero sia maschio che femmina per i ra poiché essi sono la prostituta di tutta la terra poiché coloro che non sono per me sono contro di me dice il nostro dio poiché io adempierò le promesse che ho fatto ai figli degli uomini e quelle che io farò loro mentre essi sono nella carne pertanto miei diritti fratelli così dice il nostro dio io affiggerò la tua posterità per mano dei gentili non di meno io intrenirò il cuore dei gentili affinché essi siano come un padre per loro pertanto i gentili saranno benedetti e annoverati tra il casato di israele pertanto io consecherò quella terra alla tua posterità e a coloro che saranno annoverati tra la tua posterità per sempre come terra della loro posterità eredità poiché poiché è una terra scelta mi dice il signore più di ogni altra terra pertanto io farò sì che tutti gli uomini che vi abitano mi adorino dice il signore e dormi diretti fratelli visto che il nostro dio misericordioso ci ha dato una così grande conoscenza riguardo a queste cose ricordiamoci di lui e mettiamo da parte i nostri peccati e non abbassiamo il stati rigettati non di meno siamo stati portati via dalla terra della nostra verità ma siamo stati condotti a una terra migliore poiché il signore ha fatto del mare il nostro sentiero e siamo su un'isola del mare ma grandi sono le promesse del signore a coloro che sono sulle isole del mare pertanto poiché dice isole ce ne devono necessariamente essere altre oltre questa ed esse pure sono abitate dai nostri fratelli poiché ecco il signore dio ha condotti via di tempo in tempo dal casato israele secondo la sua volontà e al suo piacimento e ora ecco il signore si ricorda di tutti coloro che sono stati separati pertanto ei si ricorda anche di noi rincuoratevi dunque e ricordate che siete liberi di agire da voi stessi di scegliere la via della morte perpetua o la via della vita eterna pertanto miei diretti fratelli riconciliatevi con la volontà di dio e non con la volontà del diavolo e della carne e ricordate dopo esservi riconciliati con dio che è solo per grazia di dio e tramite essa che siete salvati pertanto possa dio farvi sorgere dalla morte mediante il potere della risurrezione e anche dalla morte perpetua mediante il potere dell'espiazione affinché possiate essere ricevuti nel regno eterno di dio e possiate lodarlo per grazia divina amen